Allora, com'è che sei venuta a conoscenza dell'iniziativa? È attraverso la scuola di Biella. E com'è che da Biella hai deciso di venire ad Arezzo a fare la volontaria? È per i ragazzi, perché a me l'esperienza è presentata tantissimo l'anno scorso, allora fa una settimana e appunto mi sono divertita tantissimo, mi sono legata a loro, quindi ho deciso di rivenire. E com'è che te l'hanno presentata all'iniziativa? È attraverso la scuola ci hanno detto che appunto ci sono dei volontari a scuola e ci hanno chiesto di partecipare a questa iniziativa, di aiutare questi ragazzi all'organizzazione, eccetera, eccetera, quindi sono venuta.